L'apertura della chiesetta, servizio dedicato alla preghiera e alla spiritualità per i ragazzi delle scuole nell'area dell'Istituto Agrario di Pop a Pianodaccio a Teramo, ha suscitato alcune polemiche da parte della FLC TGL, con diverse contestazioni all'iniziativa concordata da dirigenza scolastica e diocesi e avviata qualche giorno fa. Effettivamente c'è stata una polemica rispetto a questa cosa, ma la nostra non voleva assolutamente essere una polemica, voleva semplicemente essere un ribadire dei principi essenziali, essendo noi una società multietnica, multireligiosa, una società pluralista, ribadire effettivamente quali sono i principi che dovrebbero essere alla base di un'istituzione scolastica e quindi ribadire quella che è la laicità della scuola. D'altronde il ruolo del sindacato è proprio quello di rimendicare, comunque, quello di sottolineare quelli che possono essere delle incongruenze o delle questioni di metodo e di merito rispetto a determinate questioni, perché di fatto sono delle questioni anche politiche. Ovviamente non si è fatta attendere la risposta da parte dell'istituto e della diocesi che hanno voluto puntualizzare il fatto che la chiesetta di Piano Daccio è completamente autonoma rispetto all'istituto Rozzi e in uso della parrocchia di San Lorenzo di Nepezzano, questo nonostante la sua collocazione all'interno del parco scolastico. Sì, per noi non ci sono polemiche, forse più un'incomprensione. Noi proponiamo un servizio all'interno delle chiese, quindi senza voler entrare nelle scuole o creare ingerenze, appunto, altro che possa ledere i diritti. Questa è soprattutto una proposta, una proposta che non vuole creare assolutamente divisioni, anzi cercare di accogliere e anche intercettare un bisogno, intercettare anche, se possibile, giovani in un momento molto difficile, diciamo, socialmente parlando.